Hi bitches, welcome back to the small fucking channel, bitch Allora, in questo video A parte lasciatele fare le condizioni In questo video farò il vlog del mio weekend Visto che questo weekend ho un paio di cosette da fare E niente, è venerdì oggi e sono le 6.40 E io ho il treno per andare a Milano alle 9.20 tipo E arriverò lì tipo alle 11.30 Infatti stasera non penso di fare niente Però vado dal mio tipo così Quindi poi vediamo E niente, adesso mi vado a fare la doccia Mi lavo i capelli perché stamattina per andare a scuola Mi sono messa il gel Quindi mi rilavo E poi devo preparare tutte le mie cose Tutti gli outfit e tutti i trucchi Tutte le cose per andare a Milano So yeah, bitch Let's do that First of all Pochi ho ho Comunque sto imparando un po' ad usare sta telecamera Perché nel primo video c'era tipo L'effetto che mi levigava la faccia E non riuscivo a toglierlo Oh raga guardate c'è il mio cane che è carino Non riesco a girare Aaron Ciao Aaron Ma quanto sei carino Raccade Ma quanto sei carino Vabbè comunque Ora mi devo portare la videocamera E poi dobbiamo capire ancora come funziona la roba della batteria But anyway E ci vediamo quando ho finito Facciamo la skin care Mettiamo i prodotti nei capelli Li asciugo Tutte queste cazzate qua E poi mettiamo a posto tutto Ok doccia fatta Mo mi asciugo un po' i capelli Comunque mi sono rimasti 40 minuti Cioè in 40 minuti devo prepararmi Preparare tutte le borse Tutto 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 Non ce la farò mai Ok adesso che mi sono lavata i denti Faccio un po' di skin care Cioè un po' Faccio la skin care che non faccio da tre giorni Proprio velocissimo Proprio velocissimo Perché Non ho tempo Io davvero Mi riduco sempre all'ultimo E poi mi lamento Dai che sciatta foda Faccio tutto da solo Io ancora sti rovi devo capire com'è Ma i cazzati Non servono un cazzo Se ce la metto Però li metto perché sono carini Li mettono tutti Comunque Allora Per chi mi segue su TikTok Ha visto che ho preso tipo Il set di Fenty Beauty Per la skin care E Però sono mini size Però a cazzo me ne frega perché Almeno me li porto a giro Ok questo è il cleanser Per prima cosa Comunque davvero non servono a cazzo Sticolazio C'è fatemi Aspetta Ok Adesso Mi piace tipo uno scrub Cioè Cioè questo Che arriva con questo Quindi Il problema è che non so manco che vestiti Portarmi E questa è la cosa che mi preoccupa Perché ci metto tre ore E ho mezz'ora Nemmeno Oh my god E devo ancora sciogliere Dopodiché Mi metto Il tonico Sempre di Fenty Ok E dopo il tonico Infine Crema indratante Questa qua La adoro Tipo Straluminosa Rega E stra Bostra E basta Spacco Infatti questa mi sa che la compro Nella size normale Perché La vita Proprio Adesso mi sa che comprerò tutto Nella size Nella full size Però Però mi fidiscono Compro tutto Rega Illumina di brutto E anche tipo SP Insomma Anche tipo Fa anche da crema solare C'è tutto dentro Ok Adesso che il mio viso È più luminoso Del mio futuro Capelli Metto questo Di Pantene Questo Di Kerastè Kerastè E' un cazzo Che ma Poi Basta Ah e poi Il termoprotettore Che dove è Questo termoprotettore Che va messo Capelli umidi Quindi allora Prima Questo Ok Questo Non mi aspettavo Uscisse così tanto Sincero Però Questo Non unge Quindi sto Cazzo E infine Il termoprotettore E poi i capelli Li lascio Asciugare all'aria Nel mentre che Metto a posto I vestiti E poi Prima di uscire Passo il phon Se ci sono ancora Capelli Bagnati E niente Andiamo a mettere a posto Il borsone Da portare Perché se no Non finisco più Sto Facendo il borsone Ho messo questi pantaloni Poi porto Questo body Che è tipo Incrociato dietro Io rega porto Tutte cose a caso Questa tutina nera Porto tutte le cose Che secondo me Potrebbero essere utili Perché io non riesco A crearmi un outfit Già pronto Cioè mi porto Le cose che Secondo me Utilizzerò E poi Di per lì vedo Tanto ci devo stare Due notti Quindi E poi Devo fare anche un post Che Non vi spoilerò Adesso che ci penso Mi sono ricordata Che devo portare altre cose Ok alla fine Questo è Il mio Outfit Così E niente Ce l'ho fatta Solo in tempo Saranamente E Adesso vado In stazione Bitch Comunque rega Anche il treno per Milano Ha fatto ritardo Infatti sono Al Mac E almeno Ceno Perché non ho cenato E poi Vado Bro Ciao No no Non c'è C'è Comunque rega Si No No Non c'è Un c'è Buongiorno No Non c'è Buongiorno Nel Che Se Tu Ti 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 Ok sono arrivata adesso a Milano Comunque sono arrivata E ora andiamo a casa E appoggiare il borsone e la roba E poi andiamo in Studio E poi andiamo a casa Benvenuti in questo nuovo vlog A casa ti fai la pubblicità da solo Fa un culo YouTube Italia Ormai è un YouTuber La gang non si infama Un gang La gang non si infama Ritorna a casa Non ritorna Non ritorna Marocco Marocco Voi fratelli marocchini Ma basta EU like cheese Gli è partita l'attitude La videocamera Vasi è morto Ma morti Si matcha con il livano Oula Ora lo hai mangiato tipo Sei Mi stai spavendo Dì mi guarda Ti potresti piangendo Sta per piangere Mi guarda Fa così Voi erano un attore abitante Sembra una pubblicità, giuro No Senti, te li scrivo No, what the fuck No, no E questa è la mia voce da tipa Fagliela sentire, fagliela sentire Oh, bro, what the fuck Oh, ma sincero ci sta se metti la parte femminile anche Ci metti anche la parte femminile tipo per un pezzettino E poi parti tu Ha ragione, però Sì, è idro, no, è top idro Che s'nà Il frutello Allora, siamo arrivati a casa Sono le 2.39 E io ho fame Quindi devo dire che prepareremo qualcosa da mangiare E poi ho voglia di guardarmi un film E poi domani, regà Il programma di domani è che andrò a farmi le extension alle ciglia finalmente Finalmente Non ce la faccio più, regà Non ce la faccio più queste ciglia finte di merda E me le farò che spaccano, regà Poi le vedrete Perché spaccheranno E niente Non c'è un caffè Grazie pezzettino bro comunque raga è andata a finire che ho perso il treno quindi arriverò un po' in ritardo all'appuntamento ma non di tanto è stranissimo che mi sono truccata un goccio, cioè mi sono messo un po' di correttore e le sopracciglia, però è stranissimo perché senza le ciglia sembro nuda tipo sono andando verso casa sua e niente, nel frattempo fumo è arrivata guardate che figa che è comunque lei mi fa sempre l'extension raga, spaccano vi lascio il tag e mo lei è la prima raga che fa l'extension sotto sotto e me le faccio anch'io mo stiamo fumando e poi iniziamo dormo e dormo aspetta dormi dormi oi aiuto oddio no come spaccano oddio spacca no questo sempre questo sempre spaccano adesso spaccano giuro spaccano oh raga raga è è è non 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 raga finalmente non ci facevo più con quelle ciglia finte del cazzo giuro comunque sono arrivata a casa ma sto mangiando sì anche se qua le patatine anche se qua le patatine c'è il purè non è patatine comunque sono quasi le nove e finisco di mangiare poi mi inizierò a preparare perché stasera andiamo in discoteca per forza comunque amo Sicilia allora sono le 10.45 e ora mi inizio a truccare per andare a parare saranno questo è un po' un po' un po' Grazie a tutti. 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 E oggi è l'ultimo giorno di vlog, però ho cose da fare oggi. Comunque ieri mi sono divertita e basta. Non c'è altro. Ok, raga, sono le due e venti tipo e sto andando da delle mie amiche perché non vi dico cosa faccio, però vi faccio vedere quella roba rosa. Se non capite cos'è la roba rosa, ci vediamo quando arrivo là. Cazzo, c'è la roba rosa, c'è la roba rosa, c'è la roba rosa. e anche il post con il post con laругa e la roba rosa, cab la roba rosa, c'è il vlog finisce qua. perché il weekend è già finito e niente però vi faccio vedere cosa si sta mangiando e niente ragazzi vi è piaciuto questo video lasciate like iscrivetevi e tutto vi lascio i miei social qua e niente ci vediamo al prossimo video bye bitches